La lezione di oggi parlerà di un particolare tipo di iperbole, che è l'iperbole equilatera. Cominciamo dall'osservare che se nell'equazione canonica A è uguale a B, l'iperbole si dice equilatera. Quindi siamo davanti a un'iperbole equilatera quando i due semiassi, semiasse trasverso e semiasse non trasverso, sono uguali fra di loro. In questo caso l'equazione dell'iperbole, se i fuochi si trovano sull'asse X, diventa X al quadrato fratta quadro meno Y al quadrato fratta quadro uguale a 1. E quindi se facciamo il minimo comune multiplo, l'equazione diventa X al quadrato meno Y al quadrato uguale ad A quadro. Se invece i fuochi si trovano sull'asse delle Y, sostituendo anche qui A quadro con B quadro visto che sono uguali, l'equazione diventa X al quadrato fratta quadro meno Y al quadrato fratta quadro uguale a meno 1. E quindi facendo il minimo comune multiplo, X al quadrato meno Y al quadrato uguale a meno A quadro. Quindi l'equazione di un'iperbole equilatera sarà del tipo X al quadrato meno Y al quadrato uguale a più o meno A quadro. In particolare prendiamo il più se i fuochi si trovano sull'asse delle X, il meno se i fuochi si trovano sull'asse delle Y. Ora osserviamo che poiché A quadro e B quadro sono uguali, C quadro sarà uguale ad A quadro più A quadro. E quindi C è uguale alla radice quadrata di 2A quadro. E quindi in tutte le iperboli equilatere il semiasse focale è uguale ad A radice di 2. E siccome l'eccentricità è data dal rapporto tra il semiasse focale e il semiasse maggiore, e in questo caso i due semiassi sono uguali, semiasse trasversi e non trasversi sono uguali, semplificando la A troviamo che tutte le iperboli equilatere hanno eccentricità uguale a radice di 2. Inoltre, visto che nell'equazione delle iperboli gli asintoti hanno equazione Y uguale più o meno B fratto AX, visto che B è uguale ad A, nel caso dell'iperbole equilatere agli asintoti hanno equazione Y uguale ad X e Y uguale a meno X, che sono rispettivamente la prima e la seconda bisettrice. Ora, proprio per via di questo fatto, potremmo immaginare di ruotare gli asintoti della nostra iperbole o di 45 gradi in senso anti-orario o di 45 gradi in senso orario, in maniera tale da far coincidere questi asintoti con gli assi cartesiani. In particolare, se noi ruotiamo gli asintoti dell'iperbole di 45 gradi in senso anti-orario, la prima bisettrice andrà a coincidere con l'asse delle Y e la seconda bisettrice andrà a coincidere con l'asse delle X. E quindi questo ramo di iperbole si andrà a posizionare nel primo quadrante e quest'altro sul secondo quadrante, ottenendo questa figura qui, ovviamente, se partiamo da una iperbole che ha i fuochi sull'asse delle X. Allo stesso modo, se ruotiamo di meno 45 gradi, quindi di 45 gradi in senso orario, la prima bisettrice si andrà a posizionare sull'asse X e la seconda bisettrice sull'asse delle Y. Quindi questo ramo andrà a finire nel quarto quadrante e quest'altro salendo nel secondo, ottenendo questa figura qui. Questo ovviamente stiamo parlando sempre del caso in cui gli asintoti dell'iperbole, cioè nel caso in cui la nostra iperbole ha i fuochi sull'asse delle X, perché se i fuochi si trovassero sull'asse delle Y, la situazione sarebbe esattamente al contrario. Allora, ci chiediamo quale sarà l'equazione dell'iperbole equilatera nel caso in cui ha come assi cartesiani non più i suoi assi di simmetria, ma gli asintoti. Allora, per fare questo immaginiamo di prendere un punto P sull'iperbole e di tracciare rispettivamente il segmento, la proiezione del punto P sui due asintoti, quindi di tracciare il segmento PQ e PR, che non sono altro che la proiezione di P sulla prima bisettrice e di P sulla seconda bisettrice nel sistema di riferimento che ha come assi cartesiani gli assi di simmetria. E mi chiedo quanto vale il segmento PQ e quanto vale il segmento PR. Allora, in questo sistema di riferimento, ovviamente dobbiamo calcolare la distanza punto retta e quindi la prima cosa che facciamo è trasformare l'equazione della prima e della seconda bisettrice in forma implicita. La prima bisettrice in forma implicita diventa x meno y uguale a 0, la seconda bisettrice diventa x più y uguale a 0. Allora, tracciamo, calcoliamo la distanza di P da Q. Quindi devo fare A per x0, che nel mio caso vale rispettivamente 1 per x, x più B per y con 0, che nel mio caso vale meno 1 per y, quindi meno y, più c che vale 0, fratto la radice quadrata di A quadro, che è 1, più B quadro, che è meno 1 al quadrato, e quindi fa 1. E quindi ho trovato valore assoluto di x meno y uguale a radice di 2. Allo stesso modo, se mi calcolo la distanza di P, la distanza PR di P dalla seconda bisettrice, trovo A che è 1 per x, e quindi x, B per 1, che è 1 per y, quindi più y, fratto la radice quadrata di A quadro, che è 1, più B quadro, che è 1. E quindi ho trovato x più y fratto la radice di 2. E quindi l'area di questo rettangolo, lo possiamo calcolare come base per altezza, quindi come PQ per PR, è uguale al valore assoluto di x meno y fratto la radice di 2 per il valore assoluto di x più y fratto la radice di 2. Cioè è uguale a x al quadrato meno y al quadrato in valore assoluto fratto 2. Ma noi abbiamo visto che x al quadrato meno y al quadrato vale più o meno A quadro, quindi il valore assoluto di x al quadrato meno y al quadrato sarà uguale ad A quadro. E quindi ho trovato che l'area di questo rettangolo, PQ per PR, vale A quadro fratto 2. Allora adesso andiamo a calcolare l'area dello stesso rettangolo, dello stesso rettangolo, è il sistema di riferimento che ha come assi cartesiani la prima e la seconda bisettrice. In questo sistema di riferimento il segmento PQ coincide con questa parte qui, quindi rappresenta l'ascissa del punto P e quindi vale valore assoluto di x. Il segmento PR coincide con l'ordinata del punto Q e quindi sarà esattamente l'ordinata del punto P valore assoluto di y e quindi l'area del rettangolo PQ per PR è uguale al valore assoluto di x per il valore assoluto di y. Siccome ruotando il rettangolo rimane invariato, queste due aree devono essere uguali e quindi ho trovato che l'equazione dell'iperbole in un sistema di riferimento che ha come assi cartesiani i propri asintoti è x per y, anzi posso dire che il valore assoluto di x per il valore assoluto di y deve essere uguale ad A quadro fratto 2, quindi che il valore assoluto di x per y deve essere uguale ad A quadro fratto 2 e che quindi in questo sistema di riferimento l'equazione dell'iperbole è x y uguale a più o meno A quadro mezzi. Noi indicheremo questo più o meno A quadro mezzi con K e quindi l'equazione dell'iperbole in un sistema di riferimento che ha per assi cartesiani gli asintoti dell'iperbole è x y uguale a K. In particolare se K è un numero maggiore di 0 vuol dire che la nostra perbole avrà i due rami nel primo e nel terzo quadrante, se invece K è un numero minore di 0 la nostra perbole avrà i suoi rami nel secondo e quarto quadrante.